...che possiamo esprimere la soddisfazione di poter comunicare che il Governo oggi, anche se andando con un atto ufficiale, ci dice che se il territorio, così come gli ha dichiarato l'autorità di sistema portuale per entrambi i porti, il Governo farà la scelta dei porti cori indipendentemente dai limiti amministrativi, quindi noi oggi siamo qui per confermare al Governo la volontà del nostro territorio di avere l'autorità di sistema portuale anche a Bari per tante motivazioni, non per fare chimparilismo un tanto, ma perché siamo considerati da sempre la porta verso la pericola Balcante, il Medio Oriente, il nostro è uno scalo francare, in ali che possono creare occupazione, sviluppo, lavoro in questo territorio e che hanno grande capacità di sviluppare tutto il territorio della metropolitana, quindi io sinceramente la ringrazio di cuore, ringrazio i tantissimi baresi perché non so se lì sa il sindaco che abbiamo chiesto ai baresi di inviare al Ministro di fare il suo dipensione a suo segretario, sono dei volantini che abbiamo preparato, sono stati inviati, sono tutti insieme, soprattutto grazie allo contributo del sindaco di Bari, noi portiamo a casa questo risultato che è importantissimo per lo sviluppo del territorio.